Il progetto che presento oggi è una ristrutturazione con cambio, non dico d'uso, ma comunque di funzione di un annesso agricolo da me progettato nel 1995 e oggi trasformato, perché sono venute meno le necessità del suo utilizzo ai fini agricoli, quindi trasformato in due unità agrituristiche e nell'abitazione dell'imprenditore agricolo professionale. Essendo le caratteristiche esterne dell'edificio intoccabili, perché le finiture erano in pietra faccia vista in cotto vecchio, siamo intervenuti all'interno, quindi realizzando un cappotto interno e realizzando il tetto ventilato e una coimentazione sotto pavimento. Sull'esterno è stato realizzato un impianto fotovoltaico che copre i parcheggi dell'azienda, o meglio per gli ospiti dell'azienda, che produce 20 kilowatt. Con lo scambio sul posto, quindi è possibile realizzare sia il riscaldamento con pompe di calore invernale, sia il raffrescamento in estate. Le caratteristiche sono quelle dell'architettura rurale toscana, quindi travi in vista in castagno, cotto vecchio, fatto a mano, sabbiato, e pavimentazioni che si rifanno o in cotto vecchio, o comunque sempre in cotto, ma pretrattato. Le finiture del cappotto interno sono quelle tipiche dell'intonaco grezzo, quindi sono in linea con lo stile dell'edificio. Quest'estate, grazie anche al posizionamento delle finestre contrapposte, che genera quindi una ventilazione naturale con l'ausilio anche del cappotto interno e del tetto ventilato, si è migliorato tantissimo le caratteristiche termiche degli edifici, tant'è che anche la stessa necessità del condizionamento è venuta meno, nonostante che non costituisca un costo per l'azienda, grazie all'impianto fotovoltaio. Mi sembrava interessante per far capire che anche in agricoltura si possono applicare queste tipologie di edilizia innovativa, di edilizia sostenibile, e soprattutto trovano, secondo me, la massima espressione proprio nel riuso, nel riadattamento dell'edificato esistente, insomma, più che nel nuovo.